Ciao a tutti boys and grills, vi invito tutti on fire con questo hashtag fix warzoneita e sembra che stia per trendare su twitter in italia non credo di andare a giocare a warzone oggi perché oggi sarebbe un casino oggi sono sicuro che se andassi a giocare a warzone tra stream sniper buoni, stream sniper cattivi, cheater, cheater stream sniper e roba varia sarebbe un casino quindi proprio per questo preferisco prendermi oggi per giocare ad altro pure perché abbiamo un sacco di giochi a cui giocare a me dispiace questa cosa perché chi mi segue sa che io sono sempre stato fuori da qualsiasi flame dissing da qualsiasi cosa eccetera eccetera ora la cosa è vedere se quelli di Activision, Raven, chi cazzo è lo vedono ah scusatemi mi sono scordato una cosa oggi ho rifiutato la mia partecipazione ho contattato quelli di Activision e ho appena rifiutato la mia partecipazione come capitano al torneo di Vickstar che avrei dovuto giocare il 18 maggio io sinceramente vorrei farvi vedere scavengers per chi non l'ha visto scavengers è un gioco gratuito su Epic Game Store per ora solo pc prossimo mese sarà disponibile per console con il crossplay se lo volete vedere ve lo facciamo vedere a voi ci andiamo a giocare un pochino qualche partita io sono venuto perché oggi sono a tua completa disposizione off Warzone no però eh no oggi Warzone non lo tocco forse domani lo riprovo ma non lo so no ragazzi non ci ho voglia di giocare a Warzone perché se ora mi succedesse di ribeccare Cheater, Stream Sniper, Stream Sniper, Cheater impazzirei credo quindi voglio evitare qualsiasi cosa che attualmente rimetta il mood delle live in quello che sono stati sti due giorni sti due giorni sono stati terribili per me non mi sono sentito di fare live poi voi mi potete dire oh ma che stai a fare sti numeri guarda tutti i sub guarda la gente che c'era a me mi fa schifo io non voglio che la gente venga per dramma voglio che venga per quello che faccio io e come lo faccio come il motivo per le sub allora stella del mio cuore ah si sono pro player ormai è il gioco di fanatic di questo gioco? attualmente si l'unico membro del team è qui che ve lo annuncio ragazzi mi hanno firmato le pagano tipo in buone maniere entriamo e parliamo un pochino così lo facciamo vedere si 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 così lo facciamo capire anche perché l'abbiamo fatta tesolo una volta dai allora praticamente per spiegare in soldoni questo qui è un battle royale attualmente con 60 player ma da quello che ho capito vogliono portare questo gioco ad avere centinaia di player contemporaneamente sulla mappa praticamente il meccanismo di questo gioco è un misto tra pvp cioè giocatore contro giocatore e pve cioè giocatore contro personaggi controllati dal computer non si vince arrivando primi cioè uccidendo tutti gli altri cioè si vince anche così in verità però vince chi totalizza più punti ok? come si totalizzano i punti? i punti si totalizzano stanno facendo delle missioni all'interno del gioco o uccidendo gli altri player e rubando i punti che loro stanno facendo quindi ci sono vari boss che arrivano all'interno del gioco ci sono delle attività da fare e i giocatori si possono intrufolare per fregare le attività agli altri giocatori o ucciderli se tutta la squadra viene eliminata muoiono e perdi la partita se invece sopravvive anche solo uno c'è un tempo di respawn e ritorni in partita come funziona però per finire una partita? per finire una partita arriva una navicella nella zona finale all'interno del gioco bisogna entrare dentro questa navicella resistere 5 minuti e poi la navicella parte via ma si può continuare a combattere all'interno della navicella ok? la cosa bella secondo me di questo gioco è il fatto che anche se tu perdi o tu vinci tu all'interno del gioco trovi degli oggetti gli oggetti te li porti fuori dal gioco ok? una volta che tu porti gli oggetti fuori dal gioco quegli oggetti li puoi ricercare smontare per potenziarti il tuo personaggio scoprire progetti di nuove armi e così via perché se tu non trovi le armi all'interno del gioco tu le puoi craftare ci sei curva? allora guittiamo quindi è un gioco che non solo va giocato e le partite sono fine a se stesse ma c'è anche un qualcosa da fare nel menu è free to play è open potete prendere e andarle a scaricare il prossimo mese è gratuito su console con crossplay comunque non si corre più veloce con la scivolata a me la cosa che piace sono le impronte che lasci diciamo che questo gioco è un mappazzone di vari giochi però ho fatto bene cioè nel senso ma raga abbiamo qua sta roba dove siamo adesso in bordo safe prima che si chiude la safe magari possiamo dove? pingala? ah li puoi fare tutti? vai dai me la collo l'ho tolto quella della torretta buona merda ma sono due le torrette si con l'altro l'ho tolto io poi vado con l'hs sono andato full hs tranquillo buttamose dentro ma dobbiamo salire raga da dove si sale? tento più corti mi hanno aumentato la quantità dei dei qua arma r e l'hanno aumentato oddio ma quanti sono raga? qua tipo un'altra cosa figa è che le armor sono o si atterra? si lo riesci a prendere tu? eh no io non ho armi calcola non ho colpi eh allora devo fragare io lo sto fragando lo ammazzai tutti puoi restarle la cosa bella del gioco è che le armor sono modulari quindi se tu spari alla testa di uno quando gli rompi l'elmo poi gli fai cominci a fare un sacco di danno di hs stessa cosa vale per le braccia e altre cose no merda venite qua venite tutti da me venite tutti da me che c'è la tempesta tutti dentro venite eh ma ci prendo uguale rimanete dentro rimanete dentro allora praticamente ora sta passando un tornado sopra la nostra testa il tornado mo perchè non siamo dentro e quindi non ve lo sto facendo vedere il tornado cosa fa? ci praticamente ci ci fa congelare vai possiamo uscire raga oh il boss 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 ok guarda l'annolesi è proprio più forte carso si boss è molto più forte no merda gli orsi regalzano nella merda fino al collo arriva 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 si sta sfondando un orso l'ho fatto ah si sta a chiudere ah regalzano dobbiamo andare regalzano dobbiamo correre 4 ore una partita 20 minuti più o meno ah beh è molto grossa guardate poi ci sono pure i veicoli c'è stato un batto di cose guarda ecco quello lì è per esempio un uragano di quelli là che vi dicevo prima guarda che c'è un ancora più grosso più avanti sui disastri ambientali cosa si può scivolare? si volo ma guarda che cazzo i torneti ci sono si ma quanto ci vuole da aprire? arrivate tutto mi so seppi chiesto ma c'è una caduta? no ah ok oh tempesta via 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 prima che arriva ma non abbiamo tre due player 14 dimmi ci stanno eh infatti sono tanti che merda eh perché andiamo a fa l'arena? vai entramo un bugamo se merda si hanno messo troppi di un mob ora non posso curva oh mio dio trover cecco oh qua a destra qua a destra player player entriamo in zona entriamo in zona vai a sinistra vai a sinistra eh dovevi andare vieni ti metto lo scudo venite venite passiamo a sinistra regà metto lo scudo eh così passate no m'hanno fatto devi rimanere in vita te hai uno dietro one shot eh questo è one shot porco due zi ok ci sto datte axel ci sono dobbiamo eliminare il team che ci ha fatto regà ah arriva da una navicella andiamo vicendo a una navicella allora e combattiamo lì dietro fraghiamo i player dentro secondo me ci fucilano a prova cerchiamo di ammazzare tutti quelli che entri regà combattiamo nel mio scudo stiamo centrali saranno da confluire qualcosa eh almeno per far punti sono l'unico che non si mette al centro perché posso diventare invisibile e me ne sono un attimo all'angolo va bene abbiamo un team qua regà qua sulla montagna uno da me pure sopra che stanno a sparare pure da me si sparano pieno di gente davanti a me 20 29 c'è un altro lì tutti i team stanno ruotando da sinistra tutti i team merda accattami accattami regà stanno entrando serve cover merda sto correndo sto correndo sto correndo sto correndo sto correndo sto correndo apro il portone apro il portone erano già aperto una porta piccolina hanno aperto pure il portone regà sotto di me sulle scale regà creccato 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 morto finitelo finitelo prendi i punti erano i primi era il primo questo qui regà venite qua 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 hanno aperto sono qua fuori stanno aprire anche dietro eh granate 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 ne stanno entrando uno craccato uno uno fatto arriva 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 Axel dietro di noi dietro di noi stanno entrando sono entrati quasi craccato uno sotto bianco bianco fatto 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 ammazzato prendi i punti uno con l'invisibilità con l'invisibilità con l'invisibile dentro un'invisibile dentro tutto viola sulle scale fatto un altro fatto un altro mamma mia regà quanto gente c'è regà qua sopra morto 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 un altro che entro dalla stessa porta bianco 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 è fina oh mio dio arriviamo al land game dentro ma che cazzo è secondi siamo arrivati regà abbiamo rimontata eravamo settimi settimi arriva abbiamo fatto il rimontone da vita eh pure i talenti ci sono da fa c'è un botto di roba comunque metto a ricercare il mentre dai oh armor l'arco la balestra tu stai facendo la sfida sopra? si bellissima è così la vetriaglietta mi piace che c'hai? ha 40 punti con la blu? con la blu che c'è la skin tipo di ripulitore? è una mina fuori di testa sto arrivando eh buono attivi tu? ma anche se come se stanno in giro a Roma oddio cosa? interessante vabbè non abbiamo tanto ciò sono saltato in aria sto scappando Arrivano eh Non l'ho caccato Sono girato davanti C'è uno Adesso, adesso tua, adesso tua Mi sta passando il laterale Lo busciamo che è da solo Vai, 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 go, go Stai dietro, stai dietro Fatti un bomba Arriva, vieni qui Vieni Arriva l'altro Arriva Fatti due Ok Invisibile qua davanti a me Perché l'ho fatto Let's go Abbiamo la di curva Mi sparano Player Arrivo, raga Una terra Quasi caccato l'altro Mi hai messo a andare a menare Uno finito Caccato un altro a destra Con la destra allo scudo Ria boss Sto flashato Non vedo niente Bella Pulito, raga Clean, 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 clean Ah, ragazzi, avete un boss dietro Ve l'ho shottato col pompa Cos'è? Un'altra Unita Iiette Fermiamoci in secondo Oh, madonna A me ha tre colpi Dammi Dammi quello che vuoi Giorgio Ti do sta roba dorata Ti devo dare il pompa Però, me sa E ma non Non worka tanto Se vuoi sapere la mia Oh, che ha Revolver Ah, ma che ha Revolver the Fortnite Cento 45 a 1 Cento di Hs È illegale, raga 21 In mezzo E' cieco dentro, eh Per cado Com'è la situa curva? È un HP Questo qua Fatto? E' tra l'altro No Dove stanno gli altri Però, i compagni di questo? Verso 20 Verso 20 Uno è scappato Sto fa danno a questo Sto qua Si è bloccato Allora, il cecchino Un po' di due cecchino Da fuori Ho messo lo scudo Ho messo lo scudo Ok, ti vedo Mi sto messo io Non mi vedo Due secondi Devo entrare Devo entrare Mi stanno distrugge Due atterrati, regà Due atterrati Ti sale Ti sale dalla montagna One shot Lo vedo Fatto 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 Dove vogliamo andare? Stanno qua dentro Stanno qua dentro Ok 140 43 Oh, mio DHS Fatto 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 Mamma mia Regà Oh, che m'ha sparato? M'ho sparato M'ho scicchietato M'ho scicchietato M'ho scicchietato M'ho scicchietato Entriamo dall'altro lato Via, 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 via Apriamo dall'altro lato, ragà Gli sto tirare granate Io pure ne sto craftin'altro baglio Per tirarle Sto a fan botte di danno Fatto, fatto, fatto C'è un altro, c'è un altro C'è un altro Nel glitch Vado con l'invisibilità 95 DHS Alla tua destra Si è curato Fatto, fatto L'ho ammazzato prima E potesse resarci l'altro Finiti entrambi Real È fortissima la pistola Perché puoi spammare Davanti a me Uno corre 103 DHS Vabbè, è fortissima Qua roba Hittato uno Headshot 100 Hittato di nuovo Scudato 96 DHS Qua a destra c'è uno lungo Giù se vuoi Sessanta uno Non posso, devo tenere questi Sessanta un altro Pazzanto rinculano le armi, regà Anzi questo si proveranno a buttare l'ultimo Scudo One shot Uno fatto Mamma mia Sono meccro Fatto un altro Fatto un altro Manca l'ultimo No, scutati Porco due Porco due, regà Sembravo McCree Grazie mille Massimo per Lost Much love Posso dire che sta partita Abbiamo fraggato come dei demoni Eravamo tipo Cioè in bestia Ciao